Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo su Clash of Clans Un nuovo episodio E guardate qui Questo Il segnale della wifi che scarseggia Questo è il mio nuovo villaggio da TH7 Sono andato avanti molto Anzi abbastanza Perché In questi giorni sono usciti anche pochi video Perché io C'ho da fare I compiti Eccetera eccetera Però piano piano Ogni tanto Li faccio i video Bene o male Comunque Questa è la nuova disposizione Del mio villaggio Dove c'è il municipio a livello 7 Al centro Ho 3 mortai a livello 3 Di fianco Il castello del clan Al 2 Oggi la wifi è proprio andata Non so perché Ho fatto il deposito Il deposito di elisir nero Che è costato 600.000 di elisir rosso Ho fatto Ho fatto anche La cagerma degli incantesi La cagerma nera Che Adesso riesco a fare soltanto Gli sgherri Poi ho potenziato Le torri dello stregone al 2 Tutte due Ho 4 Cannoni Tutti quanti al 7 Le torri della cera Ce l'ho tutte al 6 Poi Ho lui Il mister re barbaro Il mister re barbaro Sono andato molto avanti Il capo del clan Ha scritto Era appena entrato Comunque Sono riuscito a fare Il re barbaro Perché ho attaccato Ho fatto molto Elisir nero Cioè Neanche tanto Questi qui per perdere i trofei Ho utilizzato il re barbaro Vabbè non mi fa vedere gli altri Comunque Ho preso Tanto elisir nero Le difese Sono andate molto bene Perché Comunque sia A questa lega A 1029 trofei Più o meno Anche di meno 900 e qualcosa Si Ti attaccano Ma Soltanto pochi Attaccano Con truppe serie E vincono La maggior parte Delle attacche Che ho perso È perché avevo Il municipio fuori Comunque Scriviamo di salutare Salutate Youtube Ok Comunque Io adesso Ho fatto Tantissimi Arcieri Ah Le truppe Non vi ho detto A che livello Le ho Potenziate Praticamente Tutte Sono tutti Al 3 Tranne le pozioni Che sono ancora 2 Che potenzierò Andando avanti Tranquillo Però adesso Io volevo Attaccare Con tutti Questi Arcieri Volevo fare Un po' Di oro Per fare Le mura Perché io Ho fatto Le difese Però Le mura Sono ancora Ora Oh mio dio Sono ancora Un po' Indietro Ah è vero Ho Ho 180 Truppe Più Re Barbaro Interessante Che se ci pensate Male Re Barbaro All'uno Cioè Non è che Faccia Tanto Però L'importante Che distrugga Questo qui Come ho messo Ha il municipio fuori Ma ha pochissimo oro Quindi no Comunque Vi consiglio Di scendere Alla Lega 950 Trofei Perché A Quei trofei Si trova Molta gente Con Molto oro Tipo questo Che ha fatto Una cavolata Pazzesca Ci ha messo Tutte le cose Qui Tutto Tranquillo Lo attaccherei Anche Ma non ha Niente Quindi Cos'è Che ha scritto Ye Ye It Chi se ne frega Se aveva Qualcosina In più Di già Ci pensavo Però Niente da fare Questo qui Ha molto oro Dove Quello tiene Qua Per essere Barbaro Lì c'è Il cannone La maggior parte Sono molto Forti Però Devi attaccare E basta Sperare di fare Qualcosa Che gli levi Tanto Tanto Denaro E tutto il resto Allora Allora Questo qui È tutto Deposito D'oro Quindi niente I miei attacchi Per rubare L'eser nero Era sempre Due pozioni Di Fulmine Che attaccavo Le trivelle E facevo Sempre un bot Tipo Ogni volta Che attaccavo Era 100 Delzir Questo qui Non c'è niente Stavo guardando La cosa Questa invece Ha Come Connessione Persa Si è spento Proprio Nel momento Cruciale Cattivo Ancora Non ho salutato Youtube Oh mio dio Quante cose Vi volevo dire Anche una cosa Importante Che se voi Volete Che io Faccia Un gioco Che si può Fare nel telefono O cose Varie Voi Ditemelo Che io Riesco A giocarci A registrare Dal telefono Soprattutto Grazie All'applicazione Bluestack Che si scarica Sul computer E ti trasforma Il computer In telefono Io infatti Adesso Sto Registrando Con Bluestack Però non trovo Nessuno È da 7 minuti Che sto registrando Dai Qualcosa Qualcosa Che mi lascia A bocca aperta Wow Proprio Bello Si si Oh mio dio Questo qui È Strapotenziato Cioè Hai depositi D'oro Piene Quindi Non credo Che Siedi fuori Cos'era Municipio Il 10 Quello Credo Si Non vorrei Dire una Cavolata Dai Qualcosa Qualcosa Di pieno Che Abbia Che Abbia Il villaggio Farm Che Lascia Tutto fuori No Niente Vabbè Blocco Finché Non trovo Un villaggio Decente Ad attaccare Ok Ho trovato Questo villaggio Che Essenzialmente È bruttissimo Però Ha più Di tutti Gli altri Ed è semplice Ad attaccare Comunque È da tantissimo Che sto cercando È tipo Una mezz'ora Che sto a cercare Ma non c'era Niente Di niente Di niente Adesso mettiamo Un po' Di arcieri Si L'importante È che Prendo oro Tutto Più di tutto Devo prenderlo Ora Ok Perfetto 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 È leggero Nero Attaccalo Subito Era pure Pieno Mamma mia Un po' Andato Tutto Qui Anche Il municipio Leggerne Rosto Pidando Tutto fatene fatene chiudi la porta scusate il silenzio ma era arrivato mio fratello e ha fatto un casino quindi ho levato l'audio comunque ho rubato tecnicamente quasi tutto l'oro e basta, termino si l'ho rubato 74.000 di oro mi basta e mi avanza più 121 di il silenzio nero che è molto, molto credetemi ha salutato scrivete nei commenti ciao ciao x king ok so che questo video non è che sia stato molto lungo particolare niente di che però era più per farvi vedere le modifiche che ho fatto sono andato avanti queste belle cose comunque vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate like iscrivetevi al mio canale trovate nelle informazioni del mio canale trovate facebook, instagram e anche twitch per quando faccio le live e la wifi funziona visto che ancora non funziona bene e niente per questo episodio è tutto ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti